Lavorare in un tribunale come quello di Nocera Inferiore completamente sotto organico diventa sicuramente difficile ma questa condizione non deve essere un alibi per rimanere chiusi in una sorta di immobilismo. Il nostro è un lavoro importante che incide nella vita delle persone verso le quali abbiamo una grande responsabilità. Lo ha detto questa mattina il neopresidente del Tribunale di Nocera Inferiore Massimo Palumbo che si è insediato nei giorni scorsi nel Palazzo di giustizia dell'agro. Originario di Oliveto Citra prima dell'incarico nocerino Palumbo ha ricoperto il ruolo di presidente di sezione della Corte d'Appello di Salerno per tre volte dal 1995 è stato consigliere giudiziario mentre dal 2013 al 2017 ha ricoperto il ruolo di presidente della sezione distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Il presidente Palumbo che stamani ha preso parte all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Salerno non ha nascosto di essere preoccupato rispetto agli affanni della giustizia dettati in modo particolare dalla carenza di personale ma allo stesso tempo si è dichiarato ottimista perché con la volontà di tutti si può determinare il cambiamento. Sì sono un salernitano però devo dire che sono in magistratura dall'81. Nocera fino al 93 ha fatto parte del nostro circondario. Io poi ho avuto la fortuna e l'onore di ricoprire sempre incarichi distrettuali cioè vuol dire stesi su tutta la Corte d'Appello. Nocera ha sempre fatto parte della mia realtà giudiziaria quindi conosco bene il luogo, so le difficoltà ma so anche le potenzialità. Le difficoltà sono sostanzialmente collegate al fatto che è un tribunale fortemente sottodimensionato. Consideri che noi abbiamo un bacino di utenza di 400 mila persone, Salerno ne ha 480 mila errotti e noi però abbiamo un terzo dei magistrati di Salerno. Ora per carità questo non lo dico per aprire una polemica con Salerno che anzi è dimensionato nel modo giusto. Il problema è che siamo noi fortemente sotto organico quindi lavorare in queste condizioni diventa oggettivamente difficile. È un po' come chiedere che devo dire insomma una squadra di calcio che gioca in otto e che gli hanno espulso tre calciatori di vincere la partita e di vincerla anche in modo piano. Ovviamente in queste situazioni rimanendo nella metafora calcistica bisogna schierarsi davanti al portiere e cercare di non prendere troppi gol, in definitiva gestire l'emergenza. però questo non deve nemmeno diventare un alibi per rimanere chiusi in una sorta di immobilismo perché a parte che ci sono delle ampie potenzialità proprio soggettive in quel tribunale noi dobbiamo affrontare la vita anche a costo di ricevere delle sconfitte, anche a costo di ferirci. Non dobbiamo mai negare quello che è un impegno nei confronti del nostro lavoro soprattutto perché poi è un lavoro importante, importante nel senso che noi incidiamo sulla vita delle persone quindi dobbiamo farlo con coscienza, con senso di appartenenza, con responsabilità. Io sono da un lato come dire preoccupato ovviamente se non lo fossi non sarei sincero e non sarei obiettivo però sono anche ottimista perché credo che abbiamo la possibilità di rimontare la china e ovviamente speriamo tutti quanti insieme di farlo.